È normale, è un silenzio, è anche un messaggio. Io sono anche madre, quindi, oltre ad essere avvocato. Io penso che una madre capisca il sentimento di difesa, di protezione verso il figlio e la figlia. Però per proteggere i propri figli, in questo caso, avrebbero dovuto aiutarli a cercare la verità dei fatti. Perché in questo modo non proteggono i loro figli, proteggono se stessi, come fa Grillo. A me dà il tanto l'idea che lui protegga se stesso per la reputazione della sua famiglia, per quello che può rappresentare una vicenda così grave. C'è un aspetto politico anche? Sì, c'è un aspetto anche politico, sicuramente, ma soprattutto della sua rappresentazione verso l'esterno. È il suo figlio che ha fallito e quindi lui che ha fallito. Adesso uso un termine molto forte, ma è questa un po' l'idea. Perché quel progetto educativo che uno ha verso il proprio figlio, rispetto a un fatto di questo genere, beh, è un grande fallimento. C'è un elemento in cui sono un po' più garantista di lei. Che lui dentro di sé vuole essere convinto che il figlio è innocente e che la donna sia una puttana. Perché è vero che dà il senso di un uomo disarmato che butta tutto, però vorrebbe credere fino in fondo all'innocenza del suo figlio. Questo è l'unico aspetto... Ma questo è umanamente accettabile, però non arrivi a tanto, ecco. Non si arriva a tanto. C'è l'incredulità che un proprio figlio abbia potuto fare una cosa del genere. Ci sta. È accettabile, è umano. Luca? Il silenzio di un genitore può essere anche dolore. Certo. Può avere una rilascalia invisibile che è sto così male che non parlo. Però proprio perché stiamo mettendo... Stiamo cercando di leggere questa storia. Io l'unico precente che mi viene in mente sono i genitori degli anni di Piombo. E lo so che è un precente enorme, però è stato il momento in cui i padri hanno anche preso le distanze dai loro figli, anche pubblicamente. Io ricordo questa immagine in Clibe che entrò nella cronaca loro, oggi è dimenticata, il padre del barolo Iacom, uno di quelli che aveva sequestrato Moro, era in prima fila e chiedeva la condanna del figlio. Cioè ci sono stati dei padri che hanno denunciato i loro figli. Attenzione, non lo facevano per regolare delle ruggini. Lo facevano perché erano convinti dal punto di vista etico, Vittorio, che in quel momento la cosa giusta a fare fosse questa. Questa è ancora più sottile, però ce n'è una precedente importantissima in Italia, che è il caso Piccioni. Attilio Piccioni, ministro, capo che si dimette, quindi esce di scena, però il figlio poi è assolto. Il figlio è assolto dopo anni. È una dimensione, credo che il padre abbia avuto quel silenzio addirittura da ritirarsi. Lui si è ritirato allo stesso modo. in un momento.